40 minuti dopo il decollo da Francoforte-Anne per Bari, un velivolo Ryanair ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza tornando allo scalo tedesco a causa di uno squarcio sull'ala dell'aereo. Un incubo accaduto ai passeggeri del volo low cost martedì 29 gennaio. A darne testimonianza una passeggera, Monica Irimia, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato la foto dello squarcio sull'ala e commentato. Amici, questa volta è andata così con un bello spavento. Dopo 40 minuti di volo ci hanno fatto ritornare a Francoforte e questo è il buco nell'ala dell'aereo. Speriamo di ripartire stasera. Il buco sarebbe stato provocato dalle operazioni di rientro del carrello d'atterraggio. I passeggeri, che dovevano arrivare a Bari verso le 21, sono invece atterrati, sani e salvi, dopo la mezzanotte.